come si fa il lufo di chaotic quello alle 60 ah oh cazzo man dedicated 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 adorca puta cambia un pinta ok 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 ha unito il suo vecchio stile di blocco con gli effetti ok ho finito si finito ok 2 io sto e tu eh si vabbè che magic illusion fatto vuoi essere il 7 non mi riesce ma la brucia è baggatissima 88 su radio al 2 let's go mamma mia non ce la faccio più che livello diverto ma puoi fare un mufo a velocità? ma qua qua giù un ordemira in mezzo no è fuoco è fuoco ma quanto pare no 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 musica è vero stella potrei fare ci riesce potrei fare ci riesce a parte che l'ho già finito però lo rifinisco dopo questo che lo faccio cerci ho finito un livello di ramen mi sa il primo al secondo attento io direi di ramen fino ad adesso ho fatto un livello suo e basta per cuore è 14 stelle così standual spike del cazzo un po' oggi è andato alla prima nota della nostra classe è andato alla prima nota della nostra classe siamo tipo speed uno che parlava con la c'era la propria supplenta che tipo un tremendo speriamo che non viene non averla di ruolo io ho sempre sei vantaggi di inglese what the fuck what the fuck Sì, finito il video. 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 Grazie. 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 Bello. Grazie. 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 Signore di tutti. Grazie. 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 La seconda donazione era la Scozia, ce n'è uno decinte, però non saprei. Vimi! Ok!